in ogni momento della nostra vita per conoscere il mondo intorno a noi usiamo 5 sensi il tatto la vista l'udito l'olfatto e il gusto ognuno di questi 5 sensi ha uno specifico organo che cattura le informazioni e le trasmette al cervello che ci fa percepire ciò che ci circonda grazie al senso del tatto possiamo capire se una superficie è rubida come una pietra oppure liscia come il ghiaccio possiamo capire se ciò che accarezziamo è un morbido gattino o un cactus spinoso ci permette inoltre di riconoscere degli oggetti senza guardarli l'organo di senso che contiene i ricettori con cui riconosciamo gli oggetti che tocchiamo è la pelle che abbiamo su tutto il corpo la pelle è il più esteso organo dell'essere umano e ha molteplici funzioni ci protegge dai batteri nocivi dai raggi del sole dal freddo se pratichiamo sport o se stiamo al sole in una giornata calda iniziamo a sudare si formano delle goccioline d'acqua sulla nostra pelle il sudore è una misura di difesa della nostra pelle che espellendo sostanze di rifiuto e acqua ci permette di raffreddare la superficie del nostro corpo a